Il coprifuoco sarà gradualmente abolito e questa è la principale novità dell'ultimo decreto Draghi firmato dal capo di Stato Mattarella e in vigore da oggi. L'orario obbligatorio di rientro a casa da questa sera è alle 23 e slitterà mezzanotte a partire dal 7 di giugno. Dal 21 del prossimo mese invece il coprifuoco sparirà del tutto. Il proseguimento della campagna vaccinale sta rallentando l'avanzata del virus e di conseguenza il governo ha deciso di iniziare a sfoltire le regole. Dal primo giugno si potrà pranzare e cenare anche all'interno dei ristoranti purché si rispetti il limite di quattro persone per tavolo a meno che non si tratti di nuclei familiari. Dal 15 giugno ripartiranno i banchetti dopo le cerimonie quali matrimoni, comunioni, cresime, purché gli invitati siano già guariti dal covid, abbiano effettuato un test entro 48 ore prima della festa oppure abbiano il green pass ovvero la certificazione di aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Fino alla medesima data inoltre rimane la limitazione di una sola visita al giorno verso un'abitazione privata in massimo quattro persone oltre coloro gli residenti. Dal 24 maggio riapriranno le palestre e dal primo luglio si potrà tornare a frequentare anche le piscine al chiuso, i centri termali e i centri benessere. Torna anche il pubblico negli stadi e nei palazzetti sportivi, purché all'aperto, a partire dal primo giugno, mentre dal mese successivo ci si potrà sedere sugli spalti anche al chiuso. Da questo fine settimana inoltre i centri commerciali rimarranno aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. Rimarrà comunque l'obbligo per tutti di indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso, e di evitare assembramenti. E se il trend dei dati epidemiologici dovesse restare favorevole, sei regioni saranno presto in zona bianca. Friuli, Venezia e Giulia, Molise e Sardegna dal primo giugno e dal 7 anche l'Abruzzo, insieme a Veneto e Liguria. Nelle zone bianche spariranno tutte le regole, coprifuoco compreso, fatta eccezione per quelle che riguardano l'uso delle mascherine e il mantenimento del distanziamento sociale.